ciao ragazzi oggi vi mostro come fare un giro di pieghe a 3 l'impasto sta riposando da 20 minuti lo stendiamo e formiamo un rettangolo a questo punto prendiamo un lembo e lo portiamo al centro e chiudiamo i bordi poi prendiamo l'altro e facciamo lo stesso e chiudiamo tutti i bordi guarda la bolla mettiamola dentro la bolla chiudiamo bene poi la giriamo allunghiamo un altro pochettino portiamo al centro chiudiamo per bene sigilliamo tutti i bordi per benino chiudiamo ecco qua questo è un giro di pieghe a 3 ora si aspetta 20 30 minuti e poi si rifà di nuovo ciao e alla prossima